salve a tutti ragazzi sono sempre illustro vincenzo man e quest'oggi ragazzi siamo su archiro ragazzi dobbiamo continuare il capitolo 12 quindi direi di andare però ragazzi io un po se posso cambiarmi qualcosa ma ci occupiamo questa dai si fa anche più danno ah sì devo riscuotere qua un po di monetine e direi di cominciare andiamo ragazzi ok perfetto ragazzi direi di prendersi immediatamente ricochette e andiamo ragazzi un po di monetine ecco qui sì e andiamo ragazzi continuiamo ci prendiamo congelamento si mi sembra più che ottimo ok muri rimalizzanti mi sembra più che ottimo ok allora prendiamoci questo e direi di continuare ragazzi ok ragazzi siamo posti al primo testo quindi devo stare molto attento adesso ok come prossimamente direi di prenderli no 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 dipende carnivore no 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 in un prossimo episodio di Archiro